è vero siccome loro si accontentano di poco purtroppo levano il lavoro anche a noi sì e no è esatto anche qui giusto aiutarli ma prima però a guardare il popolo italiano perfetto siamo d'accordo siamo coniati credo che rubano quelli che li gestiscono e li gestiscono male vabbè gli italiani certi lavori non li fanno più però c'è da dire questo penso che ce ne stiano troppi in italia dovrebbe andare un po da tre parti sono luoghi comuni è un problema di grande analfabetismo è veramente di poca coscienza di poca scienza è una domanda un po difficile perché non è che noi rubiamo lavoro io come emigrante però ci sono lavori che gli italiani li fanno ci sono lavori che gli italiani non li fanno più forza per esempio allora fanno l'italiano posso prendere due melero e se ne posso farlo con mela ci sono lavori che purtroppo gli italiani non riescono a fare e che gli immigrati sanno fare e che gli immigrati sanno fare allora gli immigrati non rubano il lavoro gli immigrati come gli italiani se sono più capaci fanno un lavoro che l'italiano non riesce a fare infatti ho detto è troppo non vogliono fare però non riesco lui ha detto lui ha detto che gli italiani